La porta principale del comune di Nocera Superiore è stata chiusa fino a qualche minuto fa, da qualche istante è invece aperta al pubblico perché i servizi essenziali nonostante lo sciopero dei dipendenti sono comunque stati garantiti. Il sindaco però ha lamentato questa anomalia di un comune che garantisce i servizi essenziali ma che poi nei fatti era chiuso per via dell'assenza delle chiavi. Una pesante presa di posizione di Montalbano nei confronti dei dirigenti, del segretario generale e poi anche un chiarimento su quanto è successo rispetto alla situazione dei dipendenti che lamentano pagamenti arretrati. Sentiamo anche Montalbano. Innanzitutto lo sciopero non significa che il comune deve stare chiuso perché oggi è una giornata di afflusso al pubblico e laddove vengono garantiti i servizi essenziali devono stare aperte regolarmente tutte le porte del comune e garantire quello che la legge prevede. Se poi ci sono delle assenze oppure dei comportamenti contrari alla legge, da quel punto di vista bisogna prendere tutti i provvedimenti disciplinari, quelli che sono conseguenziali, a un comportamento che non ha niente, io dico, di appartenenza, soprattutto di responsabilità verso quello che è l'utenza. Che cosa succederà con questo salario accessorio che chiedono questi dipendenti del comune? Guardi, noi parliamo di una cosa per la quale la politica non c'entra assolutamente niente, quindi voglio dirvi che questo è un problema che riguarda i responsabili dopo l'accertamento del Ministero dell'Economia e della ragione dello Stato. Se sono state corrisposte delle somme che secondo la ragione dello Stato e il Ministero non erano dovute, non so se non hanno idea, questo non dipende né dalla politica né da altre cose. Quindi vuol dire che alcune voci all'interno di quello che è il salario accessorio venivano attribuite in modo non consono alla legge per cui, secondo il mio criterio, i dirigenti si comportano di conseguenza o altrimenti sono responsabili di tasca proprio, vedi esempio, in altri comuni. Quindi questo significa avere anche un comportamento corretto rispetto a quelle che sono le disposizioni non solo della Corte dei Condi ma per quelle che è la materia che regola il contratto collettivo nazionale e il contratto collettivo decentrato interno. Quindi se c'è stato qualche errore che sicuramente per il passato non è sicuramente in mala fede ma che può essere in buona fede, questo non significa che uno deve pagare per forza. Se uno dovesse pagare, deve pagare per diritto e per certezza sapendo bene che questi sono soldi pubblici che se per caso è sbagliato i funzionali rimettono di tasca propria. Più del 90% dei dipendenti comunali ha dunque messo piede stamattina al comune ma senza lavorare. Uno sciopero per dire no a una situazione che continua a imperversare in questo comune e cioè quella dei salari accessori ancora non pagati. Ci sarebbero dei cavilli con alcuni pagamenti arretrati che sono stati invece già ceduti ai dipendenti ma i sindacati spiegano anche questa situazione. Noi chiediamo che si sblocchi la situazione, che ci sia una risposta definitiva, una risposta certa, che sia un bel sì o un bel no perché siamo dal 2011 bloccati questi soldi e che i dipendenti aspettano di poter avere con lo stipendio. A quanto monta questo stipendio, questo salario accessorio di due anni? Di due anni praticamente parliamo di 280 mila euro circa che non sono entrate nelle tasche dei lavoratori e che a fronte di questa mancata erogazione i dirigenti di questo ente seppur non rientrano nelle questioni del salario accessorio ma per le prestazioni che hanno reso hanno percepito le indennità di posizione per il compito a cui era stato assegnato. Ed è questa la grave carenza.